Tutti in piazza, dopo nove mesi di lavoro, la Piazza della Pace del Centro Commerciale Mongolfiera Iapigia vedrà la luce con due giornate di festa in programma per sabato 27 e domenica 28 aprile, in occasione della sua inaugurazione. Il grande e importante progetto di riqualificazione, promosso e finanziato da Fondo Urania, gestito da Serenissima SGR, è stato seguito da Svicom, la società di gestione di Mongolfiera Iapigia, in tutte le sue fasi per valorizzare e restituire alla città un nuovo spazio urbano vivo. Ricco il calendario di iniziative per la stagione, presentato questo pomeriggio in una conferenza stampa inaugurale, che renderà protagonista questa novissima piazza, restituita non solo al quartiere, ma tutta la città in una veste accogliente e polifunzionale. Abbiamo un anfiteatro totalmente rinnovato e un'area dog, diciamo pet friendly, fatta in collaborazione con Time for Dog. Le associazioni che collaboreranno sono davvero tante, da Osteofit a Langiulli di Bari, a Ortocircuito, che darà vita a questi aiuole che diventeranno dei propri orti. Insomma, tante installazioni e tante associazioni che contribuiranno a dare un'anima in maniera continuativa a favore di tutti i cittadini e della comunità.